Questo programma è offerto da Tecnocampus Giovedì 16 maggio, buongiorno da Teleprima Benvenuti anche oggi a questa nostra quotidiana rassegna stampa che come ogni mattina è offerta da Tecnocampus Anche oggi tanti fatti come ogni giorno sulle testate nazionali a partire dai rapporti sempre più complessi all'interno del governo ma si parlerà anche di sport ovviamente non lo sport inteso come benessere per le persone quanto piuttosto come scontri all'esterno degli stadi perché purtroppo ieri sera ancora una volta si è avuta una vicenda che ha colpito proprio l'ambito sportivo E ancora tanti fatti ma li andiamo a vedere tutti quanti uno per uno attraverso i quotidiani nazionali e partiamo questa mattina con il Corriere della Sera vediamo che proprio in apertura c'è un'intervista a Di Maio alla Lega basta estremismo e modi da casta lite tra alleati sul decreto sicurezza e Conte dice difficile evitare il rincaro dell'IVA basta con l'estremismo e i modi da casta il leader pentastellato Luigi Di Maio al Corriere lancia un messaggio agli alleati della Lega e intanto parla Paolo Gentiloni ora si rischia l'Ital Exit e il presidente del PD Paolo Gentiloni dice anche i 5 Stelle sono pericolosi come la Lega gli accordi prima si rivolti e l'Italia è isolata in Europa ancora Salvini contro PPE e PSE ed infine la leader della destra francese Martin Le Pen al Corriere dice Salvini può mettere fine alla morsa di PPE e PSE l'immigrazione deve essere bandita e ancora il problema grave di questa mattina che emerge un po' da tutte le testate è quello dello spread in forte rialzo probabilmente la tensione è dovuta proprio alle elezioni imminenti per quanto riguarda le europee però nello stesso tempo dice Tria sì ok questo è possibile però ovviamente non sono giustificati i rialzi infatti a pochi giorni dal voto europeo le regioni e la ragione dell'economia sono tornate prepotentemente in primo piano è accaduto non per la capacità dei partiti di governo di raccontare la verità agli elettori o per l'abilità delle forze d'opposizione delle parti sociali di riscrivere l'agenda delle priorità dell'esecutivo ma per la scelta deliberata di Matteo Salvini di portare la competizione del consenso con i 5 Stelle all'estremo fino a minacciare di sfondare il muro del 3% del rapporto deficit-pill come gli chiedono da tempo gli intransigenti espodenti no euro presenti nei suoi ranghi le conseguenze sono state immediate e lo spread è tornato ai livelli del dicembre scorso ossia attorno a quota 290 ma ancora vediamo gli altri fatti in primo piano abbiamo parlato già in apertura di rassegna proprio del fatto che ieri ci sono stati scontri in relazione alla partita del Lazio Coppa Italia battuta all'Atalanta per 2 a 0 ma vediamo proprio in questa immagine piuttosto eloquente quello che è accaduto ossia oltre a scatenati scontri a Roma Raggi dice siete dei barbari guerrigli a Roma prima della finale di Coppa Italia aggredita addirittura una pattuglia dei vigili arrestati 5 tifosi laziali sono barbari dice la sindaca Raggi alla Lazio il trofeo Atalanta sconfitta per 2 a 0 il trofeo consegnato dalla presidente del Senato Casellati e ancora vediamo che si parla nella colonna di destra delle vicende che riguardano che comunque è un'attività ossia il gommista che adesso dice no alle armi il gommista che per difendersi ha sparato contro chi era andato per derubarlo e adesso ovviamente si sente in difficoltà dice non voglio più la pistola con cui ho ucciso odio la pistola con cui ho ucciso dice appunto il gommista non la voglio più se tornassi indietro commenta ancora non sparerei attenzione per questa dichiarazione che è fondamentale così il gommista di Arezzo Freddy Pacini che l'anno scorso uccise il ladro il PM ha chiesto l'archiviazione ovviamente la situazione non è semplice ognuno di noi cerca di difendersi come può quando viene minacciato nel proprio ambito e soprattutto quando viene minacciato della propria vita però che cosa accade? che nel momento in cui si reagisce soprattutto privando della vita a qualcun altro tutto nella propria esistenza muta insomma prestiamo attenzione veramente a tante cose che ogni giorno ci capitano e soprattutto a come noi reagiamo perché la realtà è che tutto poi si fonderà esclusivamente su di noi e ancora vediamo slitta il termine si parla di fisco riparte la rottamazione fiscale siamo a un nuovo atto dopo la scadenza del 30 aprile per chiedere di aderire all'agevolazione potrebbero riaprirsi i termini che scivolerebbero al 31 luglio la proposta nel decreto crescita e ancora vediamo nella parte bassa della pagina nella piede di Gramellini il sondaggio finale una ragazzina malese di 16 anni in pieno scompenso esistenziale lancia un sondaggio sulla sua sorte tramite Instagram il social delle fotografie è davvero importante aiutatemi a scegliere vita o morte data o life i suoi follower si schierano si schierano cliccando detta maggioranza la ragazzina prende atto della sentenza e la esegue togliendosi la vita questo è un annuncio che è partito ovviamente da Instagram e questa è la realtà dei giorni nostri insomma sembra che tutto sia riconducibile alle scelte adottate all'interno proprio di un social network quasi come se la nostra vita fosse un gioco esclusivamente un videogame e a quel punto si clicca il pulsante di sinistra o di destra e con quello si decide dove andare in questo caso la ragazzina ha proprio seguito la scelta e ancora vediamo le altre pagine dei quotidiani nazionali il fatto quotidiano oggi ci presenta anche esso tante notizie si parte dall'alto con la commissione che deve decidere sul taglio ai vitalizi degli ex parlamentari siciliani e si è insediata ieri a Lars e ha rinviato tutto a fine mese perché dice che fretta c'è e intanto vediamo nell'articolo di apertura la fantasia contro Salvini tanti gli striscioni proprio contro il vice premier ma da Catanzaro parte la protesta dei balconi e sale anche al nord il popolo che viene definito degli striscioni prima indagine su chi li espone revelli nuovi girotondi ma più popolari si moltiplicano infatti le lenzuola appese da Campobasso a Milano la nuova opposizione al capitano passa proprio da qui e insomma possiamo vedere alcune di queste immagini proprio nella foto in prima pagina l'ite Salvini Di Maio che noia meglio Magalli Volpe e insomma gli scontri sono sempre in primo piano e nella parte centrale della pagina invece si parla di mazzetta come confindustria l'europarlamentare candidata di Forza Italia è infatti indagata con il numero uno degli industriali lombardi lei deve avere per poi dare finanziamento illecito con una consulenza da 31 mila euro nelle intercettazioni anche una seconda operazione e infatti questo è quello che ancora una volta ci sconcerta e vediamo ancora nella parte più bassa il caso Lucentini prima i rumeni il leghista è l'affare delle Ogan false mentre per il PD sul voto di scambio il PD dice no con Forza Italia e Grasso legge ok e ancora l'export delle armi il Movimento 5 Stelle a picchi della Lega perché non fermi le bombe alla rabbia e infine nella parte bassa della pagina vediamo le notizie che riguardano lo sport i moschettieri del tennis Fognini e Compagni internazionali italiani mai così in palla ed infine si va verso il decreto e con un ennesimo SIC si lella i milioni di ulivi condannati a morte in Puglia e ancora vediamo le altre notizie in primo piano le vediamo attraverso gli altri quotidiani vediamo cosa annuncia questa mattina la verità anche Di Maio si iscrive al partito dello spread la metamorfosi dei Green Lini fino a una settimana fa voleva sforare il 3% del rapporto debito-PIL ora che lo dice Salvini strilla la deriva populista ennesima giravolta elettorale con l'occhio al PD mentre l'Unione Europea amata da Zingaretti lo vuole stangare perché discrimina i Rom i Rom scusate per Bruxelles il Lazio penalizza i nomadi nell'assegnazione delle case popolari il surreale cortocircuito produrrà in realtà una multa e intanto la prudenza di Krajewski ancora sulle prime pagine dei quotidiani show gender nel palazzo degli abusivi pensate un po' protetto dal cardinale insomma veramente le vicissitudini di queste giornate sembrano sempre più in primo piano ovviamente lasciando tutti a bocca asciutta ma per il momento vi lascio a qualche attimo di pubblicità ritorniamo subito dopo voi non andate via grazie a tutti Grazie a tutti. 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 vediamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.